Il rapporto, da sempre squilibrato a sfavore di Gela tra Eni e Territorio, è il vero tallone di Achille di una città che continua a vivere sotto il ricatto del cane a sei zampe. Una volta le minacce erano del tipo, non mi fai produrre inquinando tranquillamente, allora me ne vado. Ora sono diventate del tenore, mi fai causa perché vuoi che pulisco ciò che ho sporcato? Allora rompo tutti gli accordi. Qualcosa del genere in realtà sta succedendo a proposito della causa civile intentata dal Comune di Gela al Colosso del Petrolio in riferimento al dramma dei bambini malformati e dei danni causati alla salute dei gelesi per la presenza dell'industria pesante. Ma non basta, a far sentire i gelesi ancora più vessati ci pensano alcune notizie come quella secondo la quale per salvare lo sgangherato consorzio universitario di Caltanissetta, tornato ad avere i conti in profondo rosso, il presidente della regione Crocetta, con l'avallo dei sindacati, avrebbe ben pensato di utilizzare l'eni e gli accordi su Gela. I diretti interessati smentiscono, per la verità con poca forza e convinzione, ma nel frattempo la polemica impazza, aggiungiamo noi giustamente se fosse così, in città. Oppure il progetto di declassamento dell'area museale gelese, immensa per reperti e siti, a favore del polonisseno. Una follia pura, se dovesse passare a Lars, anche quest'altra appugnalata alle spalle di Gela, ordita, purtroppo, proprio da figli di questa terra. E poi la madre di tutte le questioni sul tappeto, ossia il protocollo del 6 novembre 2014 che non decolla, la riconversione green che rimane nel libro dei sogni, e tante famiglie gelesi ridotte oramai alla disperazione. Di tutto questo si è parlato ieri sera ad Agorà. Il rotocalco settimanale di Canale 10 se ne è occupato ospitando un parterre di ospiti di tutto riguardo, dal deputato regionale gelese ed ex presidente della provincia di Caltanissetta, Pino Federico, al vice sindaco con delega all'industria, Simone Siciliano. Ed ancora l'assessore al bilancio e affari legali, Fabrizio Morello, lo storico presidente del Comitato per lo sviluppo dell'area gelese, Filippo Franzone, e quindi l'ingegner Lishandra, consulente per la presidenza della regione siciliana nella stesura del fantomatico protocollo ENI firmato al Mise oramai 15 mesi fa. Non è mancata poi, come al solito, la incisiva scheda di Giulio Cordaro dal titolo fuori dal coro. Chi volesse rivedere questa interessante puntata di Agorà potrà farlo domani sera con la replica integrale che andrà in onda su Canale 10 a partire dalle ore 21, oppure attraverso i nostri indirizzi social, ossia il sito internet tg10.it ed il profilo Facebook di Canale 10. Agorà tornerà in diretta venerdì prossimo in prima serata con nuovi ospiti e nuovi argomenti che riguardano, come sempre, Gela ed i Gelesi. Grazie. 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 Grazie.